In questo tutorial ti spiegheremo come acquistare una licenza Unity Split con il token ultima sul sito TheFew. Vai sul sito TheFew. Nell'angolo in alto a destra, clicca su Sign in ed effettua il login. Nella dashboard comparsa, seleziona la sezione Unity Split nell'angolo destro sotto il link di riferimento. Scorri la pagina verso il basso. Vedrai un elenco di licenze disponibili per l'acquisto della sezione Unity Split Licenses. Tieni presente che se al momento è in corso una promozione, nella prima scheda vedrai le licenze offerte nell'ambito di questa promozione. L'acquisto di licenze promozionali segue la stessa procedura descritta in questo tutorial. Seleziona la licenza che fa per te e clicca sul pulsante ProChase. Acquista. Si aprirà una finestra che ti chiederà di selezionare un metodo di pagamento. Seleziona Ultima. Conferma di accettare i termini e le condizioni spuntando la casella e clicca su Purchase. Acquista. Nella finestra che si aprirà, vedrai l'importo in ultima e l'indirizzo del portafoglio a cui devi trasferire l'importo specificato. L'indirizzo sarà disponibile anche sotto forma di codice QR per inviare la transazione dall'applicazione mobile. Per effettuare il pagamento, invia l'importo richiesto al portafoglio specificato. Invia l'importo esatto indicato sullo schermo. Attendi la notifica di pagamento. Ora devi attivare la tua licenza. Per farlo, vai nella sezione del menu My Licenses, trova la licenza acquistata e clicca sul pulsante Activate. Se vuoi vedere la cronologia delle attivazioni, vai alla scheda Activation History. Fatto! Hai acquistato e attivato la tua licenza. Ora puoi concludere uno split contract in base al limite disponibile della tua licenza. Se hai ancora delle domande, puoi sempre inviarle al nostro team di assistenza e saremo lieti di risponderti. Grazie! 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 Grazie!